L'Umbria si tinge di nocciola. L'appuntamento a Bevagna fino a questa sera con la sesta edizione della Festa della Nocciola. Un'occasione unica per conoscere un prodotto tipico dal sapore dolce e gustoso diverso dalle nocciole delle altre regioni. La manifestazione, che nasce per valorizzare il suggestivo borgo e le coltivazioni locali del gustoso frutto, anche quest'anno non ha deluso le aspettative degli organizzatori premiati da un significativo numero di visitatori. Per l'intero periodo della festa gli stand, i profumi della nocciola, sono stati aperti tutti i giorni dalle 10 alle 20. A scopo promozionale sono stati distribuiti sacchetti di nocciole a tutti i partecipanti.